Salve a tutti e ben ritrovati su ABC Django. Nel video di oggi, molto breve, voglio parlarti di un libro, un libro che a mio parere è fondamentale per conoscere il personaggio di Django Reinhardt. Sto parlando di Django, vita e musica di una leggenda zingara, di Michael Dreigny. Questo libro a mio parere è assolutamente da avere se sei un appassionato di Django, perché parla appunto di questo personaggio così estroso, dal carattere così particolare, che Michael Dreigny è riuscito a tirar fuori appunto da varie interviste e vari mezzi che lui aveva a disposizione per riuscire a raccogliere queste informazioni così preziose che a mio parere non trovi da nessun'altra parte. Però se sei interessato davvero all'acquisto di questo libro, questo video non è sponsorizzato in alcun modo, però se sei interessato, Andrea oggi ha pubblicato un articolo su jazzmanusci.it dedicato appunto a questo libro, scrivendo una breve recensione e mettendo qualche citazione appunto del libro, fammi sapere cosa ne pensi. Io penso sia un libro molto interessante, qui sotto trovi i link di acquisto e il link all'articolo ovviamente di Andrea Parente. Ciao e viva Django!